Tra le 3.000-3.500 specie esistenti, delle quali 70 in Italia, alcune possono trasmettere malattie serie, come malaria e febbre gialla, altre invece si limitano ad infastidire con ronzie e pruriti, provocando punture altrettanto fastidiose. Sono le zanzare, gli insetti che immancabilmente accompagnano la bella stagione e che solo nel 2018 hanno provocato oltre i 700.000 vittime in tutto il mondo. Un insetto che può rappresentare un problema serio, quindi non solo per chi soffre di allergie alle punture, ma anche per esempio per i nostri amici animali, che rischiano di contrarre importanti malattie se entrano in contatto con particolari zanzare. Ma come possiamo difendere noi stessi, i nostri cani e i gatti, i giardini e le nostre terrazze delle zanzare? La difesa delle zanzare è fare prevenzione, quindi utilizzare prodotti antilarvali, le pasticche, nei tombini, in modo da evitare l'ovodeposizione e la schiusura delle uova. Nonostante tutti gli impegni svolti alla protezione e alla prevenzione, la nostra esperienza ci insegna che non sono sufficienti a debellare il problema, quindi bisogna fare qualcosa di più. Il più conosciuto sistema tradizionale è la disinfestazione, dove vengono messi in atto prodotti pesticidi anche pesanti per l'ambiente, per chi lo vive, bambini eccetera. Nonostante tutto anche le piante ne risentono l'ambiente stesso e questo fa sì che per contatto uccide tutti gli insetti presenti nell'aria. Anche questo comunque ha delle lacune, ad esempio l'irrigazione o una pioggia può debellare il suo effetto di lavandolo e quindi rendendo poi l'ambiente libero alla veicolazione, alla proliferazione e all'ovodeposizione delle zanzare nuove. Free Zanz System che ha inventato un metodo rivoluzionario per liberarci definitivamente del problema. A trarre vantaggio da questi innovativi sistemi sono sia privati che aziende, poiché le soluzioni sviluppate da Free Zanz sono in grado di rispondere alle più svariate necessità, da chi possiede un piccolo giardino o una terrazza a chi invece ha una tenuta di grandi dimensioni, per non dimenticare poi hotel, strutture ricettive come campeggi, stabilimenti balneari, ristoranti, pizzerie, bar e locali all'aperto. Una soluzione che rispetto ai tradizionali metodi di disinfestazione offre anche un ulteriore beneficio legato all'ambiente. Noi della Free Zanz abbiamo ideato vari sistemi per la protezione in modo di proteggere costantemente un ambiente tramite la nebulizzazione. Questo ci permette di utilizzare prodotti meno invasivi e a basso impatto ambientale. In termini di paragoni, anche per chi non è un professionista del settore, giusto per farvi capire, è che in mille metri di superficie la disinfestazione tradizionale con l'errorazione impiega 100 litri d'acqua, un litro e mezzo di insetticida quindi molto pesante, invece la nebulizzazione Free Zanz impiega nella stessa superficie di mille metri quadrati un litro e mezzo di acqua, 15 ml di prodotto ma di un prodotto meno tossico, residuale e invasivo, a beneficio chiaramente dell'ambiente e di chi lo vive. I sistemi professionali Free Zanz sono in grado di sfruttare al meglio l'efficacia dei prodotti utilizzati, in quanto la miscela viene creata immediatamente prima dell'erogazione, eliminando così i problemi di degrado e sfruttando al massimo le proprietà del principio attivo. La nostra tecnologia ci permette di miscelare precisamente acqua e prodotto istantaneamente e precedendo la nebulizzazione, quindi questo permette chiaramente di sfruttare tutte le migliori proprietà del prodotto ed essere molto efficiente rispetto ad un prodotto magari preparato precedentemente e utilizzato come la disinfestazione tradizionale. I vantaggi di Free Zanz sono davvero molteplici, dal montaggio che non richiede opere murarie, al basso impatto visivo, all'autonomia di gestione dell'impianto che si attiva in modo indipendente senza bisogno dell'intervento umano. Un dispositivo brevettato calcola infatti gli orari solari in base alla località e fa partire un ciclo di nebulizzazione esattamente quando serve, ovvero al tramonto. La nostra esperienza in questi ultimi tempi ci ha insegnato molte cose e grazie a questo possiamo vantare di avere un'ottima tecnologia, un'ottima esperienza. La nostra più grande soddisfazione è avere moltissimi clienti che ci ringraziano di aver reso vivibile il giardino grazie alla nostra tecnologia. L'ultimo che mi viene in mente è un albergatore che mi ha chiamato soddisfattissimo vedendo fuori delle persone a fare l'aperitivo quando fino al giorno prima l'albergo, il giardino era invaso dalle zanzare. Ecco questo ci rende molto soddisfatti di aver portato dei benefici in un ambiente dove ce n'era veramente bisogno. Free Zanz, liberi dalle zanzare. Enjoy your garden!